Buonasera e ben ritrovati per questo servizio di Euronews. Niente paura, al momento è ancora il sottoscritto in carne ed ossa a parlare da questo microfono, ma in futuro dovremmo fare l'abitudine a convivere con questi colleghi virtuali. L'agenzia stampa cinese Xinua ha messo a punto un sofisticato software in grado di simulare realisticamente i suoni del linguaggio umano, i movimenti delle labbra e le espressioni per creare questa nuova generazione di Anchorman televisivo. Ma dietro le quinte c'è un originale che ha prestato volto e movenze ed il risultato è stato sorprendente. Quando mi hanno detto che sarei stato il modello per questo anchor virtuale ho avuto sentimenti contrastanti. Da una parte ero curioso e interessato, dall'altra mi chiedevo se mi avrebbe davvero rimpiazzato. E il timore è proprio questo. All'agenzia Xinua fanno sapere che espanderanno il programma e il giornalista virtuale verrà utilizzato anche per la conduzione di una all news. Salve, sono Ai e non sono soggetto alle leggi sul lavoro cinese. Posso lavorare 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Ma forse questo aspetto per noi in carne ed ossa è meglio non farlo sapere troppo agli editori. Non si sa mai.